Eccoci qua, oggi che tra l'altro è una giornata fantastica, perché siamo appena io e altre persone stati assolti a un processo di cui vi racconterò. Siamo con Francesco, Luca, altre persone per motivi che non c'entrano, non possono esserci, dovevano venire, da Achille Zorzo, che vedete lì dietro. Aspetta, eccoli qua dove sono. E loro sono qua in dolce attesa, mentre noi stiamo pulendo la loro casa. Eccoli qua, mi avvicino. Ed ecco, niente, questo è il lavoro che stiamo facendo, guardate tutto l'etame che abbiamo tirato appunto fuori. Aspettiamo, ringraziamo le persone che normalmente ci aiutano e chiediamo alle persone che ci stanno ascoltando di dare un contributo. Mi metto giù perché sennò tu mi riprendi dall'alto e sembro veramente la puffetta, almeno così sono tutta piccola. E quindi aspettiamo un contributo da parte di chi ama gli animali e quindi a piacere a sostenerli. Quindi è tutto ben accetto, il tesseramento, il teaming, che è un euro al mese e tutte le altre modalità di contribuzione di cui vi parlerà Luca. Eccomi qua, io sto sempre dietro alla telecamera. Allora, www.ienevegane.org dove vi potete tesserare e dove ci sono anche pagina del teaming, tutto quello che ha detto l'Ale. Poi abbiamo anche la pagina per il fieno che abbiamo comprato, ricordo ancora che abbiamo fatto arrivare dalla Francia il fieno. Piccola parentesi, gira pure dalla tua parte, mi metto vicino a te. Dove sei? No, non ci sono, sono dietro, l'ho detto che stavo dietro. Piccola parentesi, non sta piovendo quindi l'anno venturo per quello che riguarda il fieno, molto possibilmente la situazione sarà come quella di adesso. Quindi i costi saranno molto alti, se non peggio, perché non ci sono le riserve, quel minimo di riserve che ci poteva essere l'anno scorso, chiaramente quest'anno non c'è, perché c'è stata ancora la siccità. Quindi non è rientrata l'emergenza, siamo contentissimi dei contributi che finora ci avete dato e quelli che ci darete sono i benvenuti. E in primavera organizzeremo anche delle merende con Achille Zorz. E basta, vuoi aggiungere? Sì, aggiungo che abbiamo giusto questa pagina qua del fieno, apposta per raccogliere i soldi per il fieno, ed è www.donazioneachillezorz.it Ecco anche lo spelling. Non ti stavo guardando però. Ah, e poi per le nostre prossime azioni, la prossima sarà il 26 marzo per la Pasqua, seguiteci sulla newsletter, su Instagram e su Facebook, sui nostri canali e sui nostri canali anche sicuramente sul mio personale, queste cose le pubblico. Sul mio. E quindi, eccoci. Grazie. Buon pomeriggio, da parte loro, da parte di Francesco, da parte di Fra, che vi saluta, e da parte di Mia, ovviamente, da parte di Achille, eccolo qua. Che specifichiamo, eh, che questo non è il loro spazio, eh, specifichiamo che sono qua in attesa della pulizia della loro casetta. Guardatelo, guardatelo, Luca. Oh, che bello, che... Ecco. Bene. Grazie. Vi salutiamo tutti quanti. Ciao.